Agostino d'Ippona, fede e ragione. Come sappiamo uno dei temi nodali della riflessione filosofico-teologica di Agostino d'Ippona riguarda il rapporto tra fede e ragione. La concezione agostiniana a riguardo del rapporto tra fede e ragione suole essere condensata nell'espressione credo ut intelligam, intelligo ut credam, che potremmo così tradurre credo per capire e capisco per credere. In Agostino il rapporto tra fede e ragione non è vissuto in termini di esclusione reciproca. Agostino è convinto che si possano e si debbano intrecciare vicendevolmente la ragione e la fede. Dunque, se la ragione può intrecciarsi con la fede, allora la ragione umana non è corrotta, come invece aveva sostenuto Tertulliano. Per Agostino in particolare solo chi ha la fede può capire fino in fondo, ma paradossalmente chi ha solo la fede a sua volta non può capire fino in fondo. Fede e ragione si completano a vicenda. La fede ha bisogno della ragione proprio come la ragione necessita della fede. Sicché, seguendo le orme del pensiero agostiniano, per avere una piena conoscenza di una verità bisogna partire dall'atto di fede, tipico di una filosofia cristiana come quella agostiniana. Ricordiamoci che Agostino in primo luogo era cristiano e poi anche filosofo. Ebbene, una volta compiuto l'atto di fede, si può capire meglio e applicare la ragione. Solo chi dispone della fede può applicare la ragione fino in fondo, nel migliore dei modi. Però è solo con la ragione che si può comprendere l'atto di fede. È come se la ragione permettesse un'illuminazione della fede stessa. E tuttavia la sola ragione non basta. Cercare di capire Dio solo con la ragione, rifiutando l'atto di fede, è assurdo, dice Agostino, come voler racchiudere in un secchiello l'intero mare. Tuttavia, compiuto l'atto di fede, la ragione può illuminarci. La ragione può farci comprendere meglio tale gesto. E ciò in ragione del fatto che, in fondo, la fede e la ragione hanno ugualmente un'origine divina. Questa concezione fortemente positiva della ragione in Agostino trova corrispondenza con la Trinità. In fondo, nella Trinità, la ragione umana, il logos, non è altro che un barlume del logos divino, ossia della divina ragione. La ragione umana è una copia della seconda persona della Trinità, la sapienza. È come se la ragione di ciascuno non fosse altro che un barlume di divinità presente in noi. Fede e ragione risultano dunque essere per Agostino ampiamente collaborative, se così vogliamo dire. Sono entrambe legate a Dio, sono entrambe prodotto della divina creazione. Certo, talvolta nel corso della storia dell'Occidente vi sono stati evidenti casi di contrasto tra ragione e fede. E Agostino ne è consapevole. Possiamo dire che dopo Agostino avremo casi conclamati di contrapposizione tra fede e ragione. Pensiamo anche solo alla vicenda di Galilei. Ma Agostino, per parte sua, che ovviamente per ovvie ragioni cronologiche non conosce la vicenda di Galilei, ha una risposta anche a questo possibile contrasto. Di per sé tra fede e ragione non v'è contrasto. Anzi, si completano in quanto derivano entrambe da Dio. E che non siano in contrasto non toglie che esse possano essere malinterpretate. Per Agostino il rapporto tra fede e ragione è un rapporto di intimità, di radicale non contraddizione. Se si dà contraddizione è perché si interpreta male il loro rapporto, perché si usa male la ragione o si malcomprende la fede. Ecco perché Agostino cerca in ogni modo di rendere compatibili tra loro fede e ragione, o più precisamente di stringerle in un nesso di cooperazione, tale per cui ciascuna rinsalda l'altra. La fede potenzia la ragione proprio come la ragione potenzia e illumina la fede.